Grazie, mi faccio il portavoce per adesso, in realtà è timido, abbiamo appena eseguito un blues, intanto volevo ringraziare Donato e i suoi collaboratori per aver sostenuto questa stupenda iniziativa che veramente ha bisogno di essere sostenuta, perché queste cose se non vengono sostenute non possono realizzarsi, non possono esistere. Sei stato più fortunato tu, Corrado Luise alla batteria, Roberto Napolitano all'organo, questa è una formazione un po' tipica, come avrete notato non c'è il basso, perché viene svolto tutto da quello strumento strano, che ha dei vecchi trascorsi, un po' ormai dimenticato, però in questi ultimi periodi ho ripreso soprattutto dal jazz, molto usato nel periodo degli anni 70-60, nelle orchestre rock praticamente. strumento, nel jazz si usa un po' diversamente, facciamo pure un po' di didattica, va bene, io vi auguro buon ascolto, abbiamo suonato un blues, adesso facciamo una cosa caruccia di riconoscere tutti quanti, Summertime, di George Kershine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.